ciao a tutti sono riccardo masini e questo è blog e questo è l'ultimo episodio di blog prima della breve pausa estiva che come ogni anno ci prendiamo ad agosto anche se ovviamente metterò altri contenuti sul canale anche ad agosto non vi preoccupate qualcosina lo facciamo poi comunque ci vediamo sempre sul gruppo ludostoria su cui in tanti mi seguite chi ancora non mi segue su quel gruppo facebook glielo consiglio perché stiamo parlando di tantissimi giochi storici di ogni di ogni tipo senza alcuna distinzione quindi tantissima verità e tantissimi amici e amiche che ci con cui parliamo e beh come che sia a parte tutto ecco di che cosa parliamo in questo episodio beh io vi voglio salutare con tre giochi che effettivamente potete portare anche nelle vacanze perché sono tre giochi di dimensioni non enormi e sono i tre giochi che trovate tada nel sitria il numero 37 eccolo qua l'ultimo numero di sitri ai rivista assolutamente di riferimento nel mondo del war game nel gioco storico fatta dall'amico roger mcgowan diretta da lui ma con tantissimi articoli meravigliosi e all'interno c'è tantissimi questo numero c'era veramente tantissimo materiale di gioco c'erano ben tre giochi originali tre giochi bellissimi e cominciamo a vederli io faccio questo speciale appunto dedicato voglio fare questo speciale dedicato ai tre giochi che trovate inclusi in questo sitria i 37 oltre agli articoli oltre alle espansioni al materiale aggiuntivo per altri giochi gmt ma non solo bene trovate questi tre giochi totalmente completi e uno più bello dell'altro allora cominciamo dal primo e fra l'altro ripeto sono giochi tutti quanti ma anche abbastanza piccoli come come dimensioni come spazio sul tavolo quindi perfetti rapidi belli divertenti assolutamente perfetti però portabili anche durante le vacanze allora cominciamo dal primo ed è un classicone ed è l'ennesima edizione verso il conto delle edizioni di drive on med eccolo qua guardate chi l'ha fatto james danigan jim danigan sì esattamente il grandissimo jim danigan fondatore dell'espiai nonché oggettivamente uno dei padri del wargame moderno bene lui nel suo wargames handbook inizio degli anni 80 crea che cosa drive on meds questo gioco che io definirei neanche introduttivo io veramente definirei didattico cioè l'idea di danigan è creiamo un gioco che spieghi con una situazione storica ben precisa ben definita che cos'è l'ex encounter cosa vuole fare come lo fa e in questo gioco lui ha messo veramente un'antologia tutte le meccaniche principali dell'ex encounter tutte sparate qui qual'era l'idea di danigan beh l'idea danigan è che io vi metto tutte quante le classiche meccaniche dell'ex encounter quindi appunto il movimento le zone controllo il combattimento i rinforzi le diversi tipi di condizioni di vittoria proprio una specie di antologia delle varie cose che compongono il wargame classico quindi la crt quindi la tabella dei risultati di combattimento una tabella tec c'era terra ne fax chart la tabella dei terreni la sequenza dei turni e gli eventi i rinforzi i punti vittoria tutto quanto anche e assimetria tutta questa roba ma non ve la dico soltanto ogni un libro che ve la faccio un pochino così studiare c'è così no no ve la faccio vedere nella pratica nel suo work in sandbox l'idea che la gente si fotocopiasse si ritagliasse le ultime pagine dell'appendice che aveva messo appunto un tipico wargame e che però spiegava nei capitoli di quel manuale come era stato realizzato da che cosa era partito da quali elementi di ricerca storica era partito qualcuno li aveva selezionati come le aveva trasporti su strasposti sul gioco da tavolo e poi sul wargame sul tavolo da gioco e poi appunto lasciava ai lettori il piacere di scoprirli in movimento quindi di avere questa esperienza pratica diretta e concreta unione di teoria e pratica del gioco di simulazione del wargame esagonato ex encounter in particolare però in generale valido per tutti i giochi storici bellissimo assolutamente solo cosa succede questa qua era soltanto un discorso appunto didattico solo che viene preso in parola ad annigan dalla victory point games all'inizio degli anni 2000 e poi dal da citriai che ne rifanno edizioni su edizioni deluxe aggiornate a ingrandite di questo gioco splendido di questo drive on mezzo fino a questa che è l'ultimissima edizione e con dei componenti meravigliosi che trovate nel citriai qual è la bellezza di questo gioco la bellezza di questo gioco è sta nella sua importanza perché vedete questo gioco è veramente perfetto e concepito per intruire chiunque chiunque veramente senza la minima esperienza senza la minima pratica veramente al di là dell'età senza nessun problema chiunque al ex counter ma ve lo fa vedere a lato pratico con delle partite che non possono superare un'ora veramente perché c'è un clock c'è un orologio fatto appunto dalla sequenza dei turni e in cui noi troviamo tutto quindi se voi volete cominciare il vostro viaggio nell'ex encounter è qui ed è qual è l'altra cosa bellissima di questo gioco la sua importanza perché una volta che avete padroneggiato queste tre pagine e mezzo di regole veramente non è niente non è niente il sistema di combattimento è faccio un differenziale delle dei valori di combattimento delle diverse unità più 3 più 4 più 5 più 6 è un'operazione matematica 8 meno 4 fa 4 allora andiamo a vedere sulla tabella del più 4 poi però è ma sto in foresta allora dalla tabella del più 4 cosa mi dice la terra nfx chart cioè la tabella di terreno beh che devo shiftare cioè spostarmi in una colonna e andare sulla colonna del più 2 più 3 tutto qui tiro il dato e che il risultato è che cosa succede me lo dice tutta la tabella è tutto qui fine ma la cosa è bellissima la cosa è bellissima che una volta che voi avete imparato questi principi e li imparate in dieci minuti secchi è inutile matematico è così è assolutamente così avete in mano l'ottanta per cento di ciò che vi serve per apprezzare qualsiasi ex encounter anche più complicati perché questo è esattamente il primo gradino di ingresso nel ex encounter reso semplicissimo fatto questo primo gradino basta siete a posto siete il resto e sono solo strati di regole ma diventa facilissimo questa è la grammatica è la bc del wargame qual è il discorso e qual è l'altro motivo di bellezza scusatemi di questo gioco è che bello è semplicemente divertente la situazione interessante siamo nel 1944 siamo nel tentativo questa è la punta più avanzata delle armate di patton che cercano di sfondare a sud nella zona di mezzo del confine del mo del ballo atlantico per riuscire a spezzare questa posizione ed entrare nel quale la germania non ci riusciranno perché finì con tutta questa serie di ridotte ecco questi simboli che noi vediamo sulla mappa i tedeschi alla fine riusciranno in qualche maniera a reggerla anche disimpegnando un certo numero di truppe avranno una vittoria marginale il gioco storico il gioco è virato come spesso faceva danni per darvi il risultato storico dicevo il bilanciamento che io devo avere un gioco che normalmente andrebbe sul risultato storico c'è una vittoria marginale tedesca poi se il giocatore alleato e bravo riesce a girare il risultato storico allora lì c'è la sua vera bravura e vediamo un po ma anche il giocatore tedesco può avere una vittoria maggiore quindi magari infliggendo più perdite di quanto fu fatto storicamente alle armate alleate in questo caso americane bene tutto questo è bello e divertente immediato ma veramente vi dice esattamente vi dà esattamente tutti i mattoni che vi servono per capire l'ex encounter ed è bellissimo che si tri ai nel 2024 riproponga questo gioco perché io l'ho proposto all'uso storia open qui a roma da un paio di settimane fa una cosa del genere con degli amici che non avevano mai provato l'ex encounter in dieci minuti lo stavano provando dicendo ammazza quanto è bello scusate la romana mi piace tantissimo allora questo è l'ex encounter fantastico però benissimo ti butta dentro è fatta apposta evviva ma attenzione vi fa dire anche qual è la vera difficoltà dell'ex encounter e anche di questo parlato nel gruppo due storie nel mio ultimo trano esagono nell'altro con il gioco delle scelte che ha riscosso un notevole successo sul gruppo praticamente e di vedere qual è la vera complessità dell'ex encounter che non sono le regole assolutamente perché non è che un più due o più quattro può essere oggettivamente definito complicato il fatto che in la zona di controllo che se tu entri se vai vicino la casella ti fermi non ti puoi più muovere finché non la fai ritirare è poco più degli scacchi vedete quel numero di unità qual è la difficoltà vera e che cosa faccio attacco verso l'obiettivo secondario di tionville mi concentro soltanto su metz provo a fare tutti e due oppure come tedesco ritiro delle truppe che mi danno dei punti vittori oppure le tengo qui per fermare gli americani e questo rinforzo che ciò qui dove lo dove lo mando wow scelte su scelte succede e non è mai detto che la scelta che voi fate sia quella giusta lo vedrete dopo ecco questa è la vera difficoltà delle ex encounter ma una difficoltà bella perché una profondità strategica e questo gioco ve la fa vedere assolutamente e vi aiuta a capire che la difficoltà delle regole non c'è non esiste o meglio ci può essere ma la superate veramente molto rapidamente soprattutto in un gioco così semplice naturalmente ma poi dovete apprezzare è questa voi potete apprezzarlo oppure meno però la difficoltà di scegliere tra un ventaglio amplissimo di scelte che sono storicamente tutte ponderate e sta a voi capire che cosa volete fare in un gioco che la mappa ha una mappa che una quattro perché una quattro queste tutta la mappa ragazzi questo lo giocate in tre quarti d'ora un'ora si può giocare più volte veramente vi fa capire tutte queste cose ma una volta superata anche un po la soglia psicologica delle regole perché vi fa vedere questo gioco vedere quanto sono semplici le meccaniche di base dell'ex encounter capite qual è la difficoltà vera la complessità vera del world game ex encounter e l'apprezzate oppure no però noi oltre si dice l'apprezzate allora questo punto è a questo punto siete agganciati e questo gioco è fatto apposta ed è veramente fantastico è bellissimo lo porterò sempre con me ne sono preso appunto una copia apposita per le demo perché veramente questo un gioco bellissimo poi è bellissimo e divertente da giocare certo e sono pochi pezzi la mappa è piccola ci sono tante condizioni di vittoria per carità però insomma alla fine può avere dei dei problemi di rigiocabilità però è anche vero che questo gioco che voi tirate fuori con l'amico che veramente non ha mai provato l'ex encounter lo prova è wow è appassionato veramente anche lui l'amico l'amica ovviamente o attenzione e ci sono queste vengono dalla lezione della victory point games anche delle varianti per esempio si possono aggiungere li vedete qui ecco vi metto qua le unità aeree che danno dei bonus al giocatore alleato giocatore americano potete mettere dei setup variabili il giocatore americano può utilizzare queste unità però se le utilizza delle unità che vi trasportate perde punti vittoria in qualsiasi una scommessa oppure il giocatore tedesco a sua volta può dire sai che c'è io utilizzo questa unità a piena forza e se c'è una forza maggiore però perderà anche lui questi punti vittoria quindi assolutamente anche qui tante variabili chiaramente noi stiamo parlando di un gioco che ha una variabilità relativamente limitata però è bellissimo è divertentissimo è assolutamente è un gioco da avere ma non è l'unico che è incluso in questo numero di sitri ai ecco abbiamo detto non era l'unico gioco drive on mats del sitri ai l'altro gioco era ed è betis campaign allora questo è dei tre di cui parliamo in questo episodio probabilmente quello più non dico elaborato ma quello più ampio più grande ovviamente e di che cosa stiamo parlando innanzitutto la situazione storica parliamo della seconda guerra pubblica parliamo della spagna all'epoca iberia e delle azioni di pubblico scipione pubblico e scipione il vecchio cioè il padre di quello che diventerà scipione l'africano e di gneo scipione suo fratello quindi lo zio ok è della campagna in spagna la campagna contro asdrubale contro appunto asdrubale barca e magone quindi i comandati cartaginesi in spagna e anche le nazioni dei celtiberi per esempio appunto delle nazioni che appunto popolavano la spagna nell'epoca e che erano un po divise alcune erano fedele romani molte erano fedele cartaginesi e quindi una situazione veramente molto complessa e in questa campagna sul fiume betis eccolo qua appunto troveranno la morte appunto pubblico scipione il vecchio e suo fratello neo scipione quindi un momento molto duro per le armate romane ma molto interessante dal punto di vista tattico perché vedete questa campagna comincia con i due eserciti romani divisi anche con un po di alleati iberici divisi perché qui abbiamo qua neo scipione che praticamente già ingaggiato qui abbiamo pubblico scipione che sta per essere appunto colpito da questa forza di rinforzo dei cartaginesi e dei loro alleati iberici qual è la bellezza di questo gioco la particolarità di questo gioco che utilizza il sistema di gettysburg waterloo e adesso rebel fury quindi questo bellissimo sistema di cui abbiamo parlato diverse volte ad attivazioni alternate e della prima volta che questo sistema viene portato nel war game antico ci pensa chi dan forney che è l'autore di diversi moduli del great battles of history ma anche appunto di diversi giochi anche della worthington quindi è veramente un designer veterano e qui ci dà questo gioco veramente particolarissimo particolissimo perché perché a ok parte già da questo sistema di attivazione alternata che uno non sa mai quante unità potrà muovere di creazione organica naturale dei punti di contatto rimando le puntate che ho fatto questo sistema perché è veramente bellissimo poi per una campagna così di manovra così tanto spazio e punto di manovra di possibilità di scelta wow veramente fantastico ma in più ci aggiunge alcune cose per apprendere cose la punica fraude dirà lì io gli inganni sottifugi dei cartaginesi e abbiamo dei segnalini di corruzione che faranno delle vie gli alleati dei dei romani a costo di alcuni punti vittoria per i cartaginesi la possibilità di scegliere da quale punto arriveranno gli alleati iberici che è ignota a romano anche se c'è una regola opzionale per farlo random casuale però ecco vedete tutte queste cose vengono inserite all'interno ed è altra cosa in particolare rispetto a rebel fury c'è una maggiore differenziazione delle unità perché per esempio la cavalleria numida di massinissa che all'epoca ancora combatteva con i cartaginesi ha un determinato set di regole di comportamento in prossimità delle unità romane ma la cavalleria romana ha un altro set di regole gli elefanti un altro set di regole ancora quindi si comportano in maniera molto diversa questo lo rende non dico complesso ma più elaborato ed è però è veramente interessante il devo dire la verità dei tre giochi quello che ho giocato meno perché perché c'è una cosa in particolare questo gioco ha un po di difficoltà richiede di essere giocato secondo me due giocatori perché ci sono un po troppe cose segrete che secondo me non rendono io non ho ancora avuto modo di giocarlo con un amico ho fatto un paio di prove in solitario un po di mosse mi è piaciuto molto però capisco che questo è un gioco che va giocato in due persone però è sicuramente il gioco più elaborato più profondo dei tre che troviamo su questo numero e infatti lo troviamo anche nella copertina del numero di sitria e quindi questo è un po il gioco principe però ecco veramente è un gioco comunque rimane ripeto molto semplice molto interessante quindi non pensate che sia chissà quale complessità anche perché questo è il numero dei pezzi che vi trovate in gioco quindi abbiamo detto tante regole e anche le guarnigioni vedete gli accampamenti castrum è una campagna estremamente affascinante bellissime le notte storiche quindi assolutamente assolutamente niente da dire situazione tattica molto molto interessante la e punti vittoria sono per la conquista di alcuni punti chiave nella mappa e per l'eliminazione delle unità quindi da questo punto di vista poca poca differenza rispetto al solito però è la bellezza in sé di questo sistema che con questo gioco dimostra veramente tantissimo la sua flessibilità perché lo troviamo portato anche nel nel gioco nel periodo antico grandissima riabilità e non vedo l'ora e del forno dice nessuno voglio riapplicare anche altre campagne dell'antichità ma non solo veramente questo secondo questo sistema sulla scala operazionale di manovra fa benissimo quindi è veramente molto molto interessante una grandissima proposta inclusa in questo sitri ai il terzo gioco incluso in questo numero sitri ai e spanish road un solitario di daniel hernandez iniesta che fra l'altro io devo dire è un grande amico che io ho conosciuto da 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 un anno giù di lì più o meno e con lui stiamo lavorando lui appunto ha creato un card even un gioco sulla guerra dei trent'anni si chiama el colapso ovviamente daniel è spagnolo quindi decollapso il crollo e visto dalla parte dei spagnoli la guerra dei trent'anni è il crollo e con lui e con paolo carraro insieme noi tre stiamo un po facendo la ricerca storica per quello che riguarda poi di play test per quello che riguarda gli scenari in italia ma oltre a the collapse il nostro daniel ha creato questo solitario che poi dopo prima in spagna poi dopo è stato portato anche all'attenzione pubblico internazionale grazie a sitri ai e appunto è stato rieditato in sitria in questo numero e attenzione noi stiamo parlando sempre di guerra dei trent'anni perché cos'è spanish road la strada spagnola in originale è il camino espanol era la strada che collegava gli possedimenti spagnoli nel nord italia alle fiandre quassù che erano le fiandre in rivolta se questo vi ricorda qualcosa della scuola non sapete perché ve lo dico subito il manzoni perché i promessi sposi è ambientato nel periodo del camino espanol e nella guerra dei trent'anni all'inizio del 1600 prima età del 1600 e appunto ci sono molte campagne nel nella zona e molti tentativi da parte dei protestanti da parte dei francesi da parte di varie altre potenze per interrompere questa vitale strada logistica perché qual era il discorso gli spagnoli rifornivano le fiandre passando dal nord italia dai possedimenti che venivano l'italia e rifornivano gli eserciti che erano nelle fiandre in rivolta ma dovevano passare qui fare questa specie di diagonale e questa diagonale qui a mezzo c'è tutta l'europa praticamente quindi questo quasi nessuno se lo ricorda questa storia ma è un aspetto fondamentale attenzione non è però soltanto la guerra dei trent'anni perché e ce lo ricordo a questo gioco nel camino espagnol qual è il vostro scopo il vostro scopo è partire con un esercito dalla lombardia quindi dal nord italia e arrivare nelle fiandre costruendo dietro di voi questo sentiero ok questa appunto questo corridoio logistico che vi faccia trasportare uomini e mezzi verso le fiandre in rivolta ovviamente qui è tutto territorio stile e trovate questi che sono gli eserciti nemici sono eserciti protestanti eserciti degli stati italiani che non sono favorevoli all'impero sono gli svizzeri questo è un setup il setup iniziale è casuale quindi c'è una c'è una randomizzazione del del setup iniziale questo quello che vedete è una delle possibili configurazioni e perché vi dico che stiamo parlando un gioco molti epoca perché vedete questi questi sono i tre comandanti spagnoli che vi rappresentano ma sono tre comandanti di tre epoche diverse ecco qua vedete il duca d'alba ambrogio spinola spinola io non mi ricordo ma alle volte lo chiamo spinola a volte lo chiamo spinolo sapete che io con gli accenti ho qualche piccolo problema e ferdinando il cardinale infante e sono questi ok sono questi comandate ma leggiamo le date duca d'alba 1507 1582 amrogio spinola pinola 1569 1630 ferdinando il cardinale infante 1609 1641 ecco qua e allora vedete noi stiamo parlando con un solitario molto molto semplice effettivamente di bene di un secolo e mezzo di storia europea è male allora come funziona questo solitario abbiamo detto dalla italia dobbiamo arrivare fino alle fiandre e allora che cosa dobbiamo fare dobbiamo prendere scegliere uno di questi nostri tre comandanti quindi chi ci darà l'epoca precisa in cui noi ci troviamo è una delle abilità particolari per esempio il duca d'alba cominciamo con lui il duca d'alba ci darà due vedete questi segnali due dadi in più nel nelle battaglie nella battaglia campale e un dato in più per per gli assedi mentre invece eccolo qua spinola eccolo qua verrà un dato in più all'esercito ma due dadi al al gli assedi il cardinale infante darà un dato agli eserciti e un dato agli assedi potete a me non è un granché ma questo uno qua sotto ci darà di il terzio il terzio momentum cioè il momento mettiamo qua i nostri al loro posto ossia delle abilità speciale dei terzi os perché appunto era questa grande formazione di massa a cui si muoveva l'esercito spagnolo e sono dei bonus allora come funziona il gioco il gioco ha una serie di fasi il turno diviso in fase molto molto semplice abbiamo una prima fase che è una fase di diplomazia dal secondo al sesto turno in cui possono succedere varie cose in particolare quello che succede ci sono diverse diverse tabelle ma molto molto semplice per ed eccolo qua vedete la rivolta la francia contea può andarsene in in rivolta e quindi è entrare un esercito nemico nella francia contea gli eserciti nemici come funzionano molto semplicemente hanno un quantitativo queste quantitativo di dadi che tirano in battaglia per gli svizzeri tirano 5 attenzione che se due eserciti si combinano viene fuori un esercito di coalizione che vedete di dadi addirittura nel tira 7 noi quantità di tiriamo quant'è la forza dell'elettivo spagnolo ma questo può diminuire c'è questa scala benissimo poi abbiamo una fase di eventi e questi eventi possono essere favorevoli o meno agli e agli spagnoli e poi c'è una fase di operazioni e all'interno di un turno vedete qua c'è anche il coefficiente di difficoltà sono i turni che voi avete disposizione le settimane che avete disposizione per andare dalla lombardia fino alle fiandre all'interno di un turno gli spagnoli possono fare due azioni queste due azioni quali sono rinforzi possono provare ovviamente più sono vicini alla lombardia più è facile ottenerlo dei rinforzi mettete che siano stati colpiti abbiano fatto delle battaglie siano a 5 potrebbero cercare di arrivare a 6 magari ci sono anche degli eventi che vi danno dei rinforzi eccetera altra cosa il movimento beh il movimento il momento ci si muove vedete le queste sono le varie aree della mappa ci si muove dall'una all'altra però attenzione quindi muovo il mio esercito per esempio l'ho mosso qua in savoia allora attenzione ci sono dei tiri da fare dei tiri di attrito da qui non ci sono magari però vedete questi valori piccini questo 1 questo 2 sono sono dei modificatori all'attrito cioè il fatto di vedere se l'esercito effettivamente riesce a a muoversi e oppure una battaglia mettiamo caso di lombardia mi sono morto in savoia e faccio una battaglia in savoia devo sgominare l'esercito italiano degli stati italiani che sono qua in savoia quanti dadi si tireranno perché si tirano un tot di dadi la battaglia funziona così si tirano la forza dell'esercito spagnolo in questo caso 7 più il bonus comandante tirerò 9 dadi e faccio un hit per ogni coppia di dadi che mi viene o un 5 o un 6 ok il problema è che ovviamente la stessa cosa la farà il mio avversario quindi si contano quanti hit si fanno quanti colpi vengono mandati a segno chi ne ha fatti di più ha vinto la battaglia il caso di parità purtroppo vincono i nemici quindi io devo superare il loro numero di colpi i colpi a me me ne basta uno per eliminare questo esercito nemico ma ogni colpo che io subisco è un colpo è un danno al mio esercito e poi che cosa altro posso fare posso fare un assedio vedete queste sono le aree le aree hanno un loro valore devo raddoppiante come una battaglia solo che l'area attirerà il doppio di questo valore 2 tireranno quattro dadi e quanti dadi tirerò io tirerò la forza dell'esercito più il bonus in questo caso uno perché il duca d'alba e quindi 7 ok quindi loro tirano a 4 radino tirerò 7 stessa identica cosa se riesco a conquistare la roccaforte metterò un mio segnalino di controllo eccolo qua quando io sono un'area in cui ho un segnale controllo posso tentare con un'altra azione ancora ovviamente adesso io sto un po unendo più azioni per immaginiamo siano più turni eccolo qua ho creato il mio cammino spagnolo un segmento vedete spanish road eccolo qua un cammino spagnolo e lo ho detto qui e poi andrò avanti il mio obiettivo qual è arrivare le fiandre vabbè facile no è ovviamente costruire abbastanza cammini spagnoli quindi abbastanza segmenti possibilmente i contigui più ne costruisco più sono contigui c'è uno dietro l'altro a fare un percorso più avrò le punte vittoria e ovviamente visto che ci sono anche eliminare un po di eserciti avversari ma a questo punto che cosa succede qual è l'altra fase il movimento nemico vedete che ogni area ha un segnalino un certo dei numeri per esempio allora io a questo punto tiro per ogni singolo esercito che c'è sulla mappa per esempio l'alsazia tiro un dado vediamo un po che cosa viene cosa fa l'esercito dell'alsazia che sta in alzati 4 dove vado 1 2 3 4 alzati e va qui va in lorena ok perché ho fatto 4 che cosa succede due eserciti insieme diventano un esercito di coalizione in lorena c'è un esercito di coalizione e faccio così per tutti gli eserciti se due eserciti si trovano attaccati l'uno all'altro cioè se devono entrare in una zona in cui c'è un altro esercito e quella trecita di coalizione non si muovono perfetto fatto il movimento il movimento nemico per tutti quanti eserciti quindi posso immaginare una situazione che si crei per esempio la situazione del genere che cominciano a scendere a un molto naturale come cosa ho attenzione vedete questi gialli alcuni questi sono dei passi alpini che hanno dei problemi logistici che vi aggrava ne possono fare avere anche delle perdite oppure ci sono degli eventi che aggrava nel tutto ecco poi dopo che cosa succede c'è la fase finale se sono arrivate le fiandre c'è il check di vittoria e quindi vado a vedere quanti punti ho fatto e vedere un po sulla base delle soglie dei punti che sono indicati nel regolamento come mi è andata altrimenti c'è la fase del tedeum ossia si passa al turno successivo perché l'idea è che è che viene cantata una messa un tedeum il mio onore per darmi il coraggio di continuare a proseguire un'altra settimana nel mio cammino verso le fiandre e si continua finché non arrivo alle fiandre abbiamo detto l'altro elemento l'ultimo elemento è quello del momentum del terzio sono delle abilità queste le uso una volta per partita e quindi ogni volta che la uso sposto in su il punteggio del terreno del momento del terzio cosa sono ma delle cose molto semplici un rirol cioè un nuovo tiro posso fare un movimento aggiuntivo un terzo ordine che deve essere solo di movimento posso ridurre un colpo in difesa quindi evitare un danno in difesa oppure fare un danno in più in attacco che può fare la differenza in una battaglia fondamentale oppure farò dare un modificatore tiro logistica quindi muovermi più facilmente attenzione però perché questi si si bruciano facile questi punti momento me quindi un attimo che vi trovate a zero punti in momentum nel momento sbagliato insomma il gioco è questo qua come vedete molto molto semplice allora che cosa ne penso del gioco è un bellissimo solitario ma veramente funziona bene perché è drammatico c'è questo senso dell'attrito andate avanti il vostro esercito che sembrava fortissimo all'inizio poi dopo diventa sempre più debole e dovete andare avanti i nemici sono sempre più concentrati sempre più forti c'è sempre più roba da fare alla fine volete arrivare alla fiandre chi se ne importa del punteggio devo arrivarci ma se non fate un punteggio sufficiente sì si siete arrivati ma con quattro gatti senza magari neanche un cammino logistico dietro e quindi senza consentire logistico si non è che ha fatto anche di punteggio altra cosa che dovete continuamente decidere vado a combattere mi fermo faccio l'assedio oppure ecco l'assedio una cosa che non vi ho detto potete anche bruciare dei punti perché prende dei punti dell'esercito rilassate la guarnigione non fate il tiro il risultato è assicurato successo assicurato però subite più danni cioè subite questo quantitativo di danni se io qua invece di fare la serie in savoia avessi voluto ok la prendo la savoia avrei subito due danni quindi e ci avete continuamente delle priorità da valutare è una cosa continua e questo da questo punto di vista significa un ottimo solitario in più c'è questo clock terribile dei turni che vanno su che vi assicuro è sono terrificanti e in più dovete fare il cammino spagnolo cioè la strada spagnola quindi dovete fare teoricamente almeno cinque dovete crearne di questi aree con questo cammino spagnolo non è assolutamente facile però ovviamente è molto molto divertente in più il gioco estremamente rigiocabile c'è un setup variabile nemico ognuno dei vostri leader cambia la vostra partita quindi non dico che sono tre giochi ma sono è sempre lo stesso gioco ma è un gioco che viene declinato in maniera diversa è chiaro che con spinola voi fate più assedi che battaglie rispetto ad alba eppure ferdinando ve la giocate sul terzo momento ci sono anche dei degli eventi che gli sono favorevole insomma qui vela dovete vela dovete giocare e il il fatto qual è allora quello che un pochino mi ha lasciato un po così è che in questa edizione servivano un po di play raid in più perché praticamente tutti quanti play head stanno dentro il regolamento magari con un player di più che trovate su borghi in chicca che se c'è un piccolo errorino che è segnalato ma sì sì si risolve facile ok ve lo scaricate lo stampate si mette a posto credo che sia veramente l'unico problema che ho trovato con questo solitario se non che questo numero 2 stampato 2 vedete 0 1 2 2 dovrebbe essere un 3 stiamo parlando di inezie all'interno di un solitario che è semplice rapido quello che volete ma è veramente al coltello tantissime decisioni ad ogni turno ad ogni mossa e secondo me è un sistema che potrebbe essere utilizzato per altre situazioni ve la butto lì sarò sempre il solito fissato con la storia americana ma io mi immagino bellissima una lexington e concord voi che siete i britannici che dovete fare il vostro giro con tutte le botte chi ha visto io gioco grandi manovre la puntata su lexington e concord sa che cosa terribile è stato quella giornata per per il drappello inglese una cosa di questo tipo e oppure il vietnam oppure che ne so l'anabasi di senofonte queste cose così insomma veramente c'è tantissimo e comunque è un bel gioco è un bellissimo solitario daniel è un grande amico ma è un ottimo designer perché veramente con tre regole in croce ha creato un bel solitario assolutamente e io non vedo l'ora anche di giocare è il collapso the collapse che conosco ovviamente e che sto a parte lavorando sugli scenari italiani ma che sicuramente sarà un bel gioco questo era il terzo dei grandi giochi presenti in questo sitri ai grazie per avermi seguito e ci vediamo la prossima che ve l'ho detto sarà a settembre però dai vediamo un pochettino qualcosina in mezzo da qui a settembre sicuramente chissà e poi seguitemi sempre su due storie che sono sempre lì un saluto a tutti e ricordate come sempre niente paura sono solo Wargames ciao